Il ciclo cellulare è delle fasi che una cellula percorre in genere. Quindi abbiamo visto la fase G1, la fase S di sintesi, ossia di duplicazione del DNA, la fase G2 dove avvengono gli ultimi preparativi per quella che sarà poi la divisione cellulare vera e propria e adesso ci occupiamo appunto di questa divisione cellulare che abbiamo detto comprende due fasi a sua volta. La prima fase è rappresentata dalla cosiddetta mitosi, ossia è il materiale genetico che si divide, che viene ripartito più che altro nella cellula madre e nella cellula figlia. La seconda è Un cromosoma duplicato è formato, quindi presente una doppia copia di cromosoma, qui il DNA è stato duplicato, è formato da due cromatidi fratelli, uno e due, che sono legati in un punto in comune che prende il nome di centromero. Io queste cose ve le spiego in linee generali, per quello che è un corso di biologia di base, le approfondisco nei minimi dettagli invece nei corsi di biologia molecolare, di biologia cellulare. Allora, quindi un cromosoma duplicato è costituito da due cromatidi fratelli, perché appunto sono Molte mie rappresentazioni schematiche, soprattutto di genetica, io vi indicherò i cromosomi in modo molto schematico, così come li vedete in questa figura. Ecco, quindi state bene attenti, questo qui a sinistra è un cromosoma come quello che vi avevo fatto vedere nel fotogramma immediatamente precedente a questo. Quindi è formato da due cromatidi, uno e due. Allora, per adesso io ve le elenco e poi piano piano ne discutiamo. La mitosi consiste di quattro fasi, dalla prima all'ultima sono rappresentate dalla profase, che è la fase iniziale, appunto profase, dalla metafase, come dice lo stesso nome, è una fase intermedia, dall'anafase. E cosa fanno? Migrano e vanno una coppia in un polo del nucleo, l'altra coppia nel polo opposto del nucleo, all'esterno della membrana nucleare. Ciò significa che non vanno all'interno del nucleo, rimangono, loro sono presenti nel citoplasma e lì rimangono, ma nel polo opposto del nucleo, nei poli opposti del nucleo. Se questa è una cellula e questo è il nucleo, allora una coppia di centrioli migrerà a livello di questo polo, quindi di questa estremità del nucleo. Questa è una rappresentazione schematica della cellula, questa è la membrana cellulare, questa è la doppia membrana nucleare, consideratelo una doppia membrana, che delimita il nucleo dal citoplasma. All'interno del nucleo, in nero, sono presenti i filamenti di cromatina, la cromatina si sta addenzando, si sta impacchettando il più possibile per andare a formare quelli che sono i cromosomi, che ancora però durante la profase non sono visibili al microscopio. Qui vedete le due coppie di centrioli, prima coppie di centrioli, seconda coppie di centrioli, e da questi centrioli si dipartono, come vedete, delle fibre che ho fatto schematizzate in rosso, che sono fibre formate da microtubuli, quindi fibre microtubulari, sono dei microtubuli, che andranno poi a formare il fuso mitotico. Che cosa accade adesso, durante le prime fasi della profase, quindi della mitosi? Accade che queste coppie di centrioli si separano, come vi dicevo, una va in un polo del nucleo, l'altra nel polo opposto. Si forma il fuso mitotico, si disgrega la membrana nucleare. Come abbiamo visto nelle prime tappe della mitosi, quindi durante la profase, la coppia di centrioli, cosa ha fatto? Si è separata. I centrioli si sono messi a migrare nei poli opposti del nucleo. E adesso vediamo questo come continuazione di quel piccolo video didattico che vi facevo vedere. Vi ho fatto vedere la profase. Adesso riprendiamo il video e vediamo che la cellula continua in quella che è la seconda fase della mitosi, che è la metafase che vi ho spiegato. Terminata la metafase, inizia l'anafase. Cosa succede durante l'anafase? Quindi da questa parte e da questa parte si hanno movimenti, da questa parte e da questa parte, da questa parte e da questa parte, in modo tale che ogni cromatidio che forma un cromosoma si distacchi dal cromatidio fratello è poi quando i due cromatidio si sono distaccati, migrano uno a un polo della cellula e l'altro nel polo opposto della cellula. Al termine dell'anafase mitotica, abbiamo visto che ogni cromatidio fratello si è distaccato. Ecco qui. Quindi alla fine della mitosi e alla fine della citodieresi abbiamo due cellule, ma cellula madre e cellula figlia, identiche, più piccoline della cellula madre di partenza, ma perché da un punto di vista citoplasmatico, come vi ho detto, il citoplasma deve essere ripartito a un luna e all'altra cellula, però questa volta ecco il rapporto nucleo-citoplasma